La Capitano Franco diventa realtà. La caserma della Guardia di Finanza sarà restituita alla città riqualificata e con una nuova destinazione d'uso. Oggi la firma decisiva all'Agenzia del Demanio regionale. Quattro le amministrazioni coinvolte, il comune che diventa proprietario del bene, la Guardia di Finanza che ha ceduto parte del bene, l'Agenzia del Demanio che ha supervisionato il passaggio e l'ufficio infrastrutture dello Stato Maggiore dell'Esercito. Il parco ed una parte degli edifici saranno fruibili ai cittadini, nell'altra parte della struttura sorgerà il nuovo comando provinciale della Guardia di Finanza. La firma è venuta a Palermo. Ha partecipato in remoto il viceministro all'Economia e alle Finanze Laura Castelli che ha dato il via al protocollo per il cambio di proprietà ed ha spossato il progetto di riqualificazione. Hanno firmato per il comune il sindaco Roberto Gambino, per la Guardia di Finanza il colonnello comandante provinciale di Caltanissetta Stefano Gesuelli, il direttore generale regionale del Demanio Giuseppe Tancredi. Presenti inoltre il vice sindaco Grazia Gianmusso e l'ingegnere capo del comune Giuseppe Tomasella. 4 milioni di euro di agenda urbana serviranno alla riqualificazione per creare il parco e un altro polmone verde cittadino e i laboratori per le attività dei ragazzi e 7 milioni di euro arriveranno dal PNRR per la nuova caserma della Guardia di Finanza. Sono state sinergia e collaborazione le parole più utilizzate dopo la firma nei vari interventi.